Ecco, salve a tutti. Oggi andiamo a fare un lavoretto che ci permetterà di aumentare la definizione di una fotografia, aumentare i dettagli di una fotografia. Quindi questo lo faremo con una tecnica chiamata HDR, cioè High Dynamic Range, una tecnica particolare che noi andremo non tanto a fare ma a simulare, nel senso che l'High Dynamic Range prevede una serie di scatti con esposizioni diverse. Noi purtroppo, troppo si fa per dire, abbiamo uno scatto solo. Da questo scatto solo applicheremo un High Dynamic Range, una simulazione dell'High Dynamic Range, che appunto Photoshop ci permette di fare. Altresì, Photoshop comunque permette l'High Dynamic Range, comunque con più scatti. Cioè il vero e proprio High Dynamic Range. Noi andremo a fare una simulazione di questo che ci permetterà appunto di raggiungere l'obiettivo di oggi, che è quello di aumentare, ripeto, i dettagli di una fotografia. Quindi apriamo pure questo scatto. Molto bene. Perfetto, eccoci qui. Ottimo. Questo è lo scatto originario. Voglio aumentare i dettagli dello scatto. Prima operazione, immagine duplica. Quindi duplico l'immagine. All'immagine duplicata vado appunto ad applicare questa regolazione viraggio HDR. Ricordo a tutti che l'HDR si può fare anche da qui. Più scatti, però bisogna avere più scatti. Quindi più scatti ci permettono di fare il vero e proprio HDR. Noi abbiamo uno scatto solo. Quindi andiamo a simulare, per questo che ho duplicato l'immagine, andiamo a simulare questo viraggio HDR sull'immagine duplicata. Questa è l'interfaccia, questa è la finestra di dialogo. Aumentiamo i dettagli. Vediamo come si fa. La saturazione ce la portiamo a zero. Aumentiamo i dettagli molto bene. Quindi a seconda del tipo di scatto aumenterete o diminuirete, a seconda appunto dell'immagine, i vostri dettagli. Quindi io tiro fuori un po' di dettagli, aumento così, saturazione sempre bassa. A questo punto bordi uniformi. Perfetto, posso aumentare leggermente l'intensità. Sappiate che dovete però andare a regolare anche la gamma, perché è un po' troppo scura. Quindi regoliamo la gamma per schiarire. E anche l'esposizione. Molto bene. Perfetto da non renderla troppo scura. Boia, qui è un po' troppo. Ecco, diciamo che la regolazione mi soddisfa. Do l'ok. Quindi il viraggio viene applicato, dopodiché con il maiuscolo abbassato e lo strumento di spostamento attivo quindi clicco, trascino, abbasso il maiuscolo, rilascio l'immagine con il maiuscolo abbassato. Perché il maiuscolo abbassato? Perché il maiuscolo abbassato rilascia l'immagine in un nuovo livello all'interno appunto dell'immagine precedente e sovrappone e sovrappone perfettamente a linea, quindi al centro. Detto questo, andiamo a cambiare il metodo di fusione del livello appena importato e lo mettiamo in luce soffusa. Tac, perfetto, ecco che i dettagli sono saltati fuori. C'è un piccolo problema. E' un po', questi dettagli, questa luce è soffusa, però ha iscurito un po' troppo. Allora andiamo a schiarire. Immagine, regolazioni, tonalità e saturazione. Quindi con questo strumento di tonalità e saturazione noi sicuramente andiamo ad aumentare un po' la luminosità, perfetto, da rendere quindi l'immagine un po' più luminosa. chiedo scusa, mettiamo colorizza, quindi aumento un po' la luminosità, troppo rosso, quindi mi sposto un po' più sul giallo, diminuisco un po' anche la saturazione. Ecco, vedete che pian pianino regolando ho tirato fuori la mia immagine, i miei dettagli sono belli fuori. Ecco, questo è il risultato finale che mi soddisfa. Quindi, così era prima di applicare il tonalità e saturazione, vedete com'era scura. Adesso, tonalità e saturazione, ho aumentato la luminosità, ho abbassato la saturazione, ho spostato la colorizzazione in base alla tonalità, questi parametri mi soddisfano, do l'ok e ho creato la situazione finale. Questo è il risultato finale dove possiamo tranquillamente vedere, confronto a prima, situazione iniziale, situazione con dettagli. Ecco qua. Direi che la lezione è finita, abbiamo aumentato i dettagli dell'immagine, vi rimando alla prossima. Arrivederci e grazie. Grazie. Grazie.